welcome palermo è un progetto che nasce in verità da un altro progetto che è stato fatto per manifesto 12 palermo si chiamava video mobile noi abbiamo preso questo appunto questo video mobile con l'idea un po anche se vogliamo un po romantica di fare come facevano i vecchi cinemobili cioè che andavano all'interno dei luoghi dove non c'era il cinema andavano e creavano questo atto di magia che era quello di mettere uno schermo e creare una situazione come dire di cinema all'interno di una piazza che noi abbiamo detto abbiamo pensato prendiamoci un mezzo un mezzo che possa diventare palco di performance luogo per fare interviste per fare salire la gente per far sì che sia un'operazione totalmente e penso che sia questo il grande soggetto di questo film un'operazione inclusiva perciò andiamo a indagare il cinema che abbiamo amato il cinema che è stato sperimentale che è tuttora ancora un cinema importante in sicilia cioè vittorio del seta gregoretti mingozzi rose cioè quegli autori che per noi hanno la temperatura una temperatura alta se la temperatura degli artisti il grosso tricky del del progetto è proprio l'idea di ricostruire di costruire un video mobile che diventa un dispositivo a tutti gli effetti che si insinua e si connette con il tessuto della città dunque non è un qualcosa lontano dalla città lontano dal dall'audience lontano dalle persone che vivono questo luogo ma è una cosa è un dispositivo che si muove ma verso di loro le ingloba le attira e gestisce questa sorta di macchina dei sogni al contrario fatto di memorie di finzione di finte memorie di finta finzione che cerchiamo su questo dispositivo che poi il video mobile di renderlo performativo palermo qualcosa di magico per noi perché è come se a un certo punto riuscisse a vitalizzare ancora l'illusione la speranza la città è una città che ricca di questa speranza di questa dimensione di una realtà così meticciata di culture diverse che sono per un artista l'ingrediente fondamentale noi siamo arrivati come posso dire con una grande speranza con una grande voglia e ci siamo messi tramite una nostra ragazza che è una producer che ha prodotto ci ha aiutato completamente a trovare tutte le figure che ci interessavano figure che abbiamo intervistato con cui abbiamo fatto delle performance perciò come dire ci siamo impegnati in questo labirinto nel cercare qualche cosa di assolutamente sincero nel ventre della città io credo che questo sia stato un progetto che ha avuto una buona un buon esito proprio perché noi stando a palermo ci siamo come dire confrontati con una totale onestà e abbiamo cercato di lavorare nella pancia della città perciò prendendo chiunque cioè questo è un lavoro che realisticamente molto pasoliniano ma pasoliniano in che termini nei termini che cerca di dare una voce a chiunque ecco perché ritorno all'idea di un progetto inclusivo non esclusivo perciò faccio un esempio in un momento importante dove facciamo riproponiamo le domande dei comizi d'amore di pasolini lo facciamo fare alla gente per strada welcome palermo fa questa cosa qui cioè cerca di andare a trovare delle verità all'interno dei personaggi che sono anche non hanno vanità sono denarcesizzati perciò non sono per forza gli artisti che come posso dire si metto sul paccoscenico raccontano la loro verità jacopo prima diceva no c'è quasi c'è un aspetto di finzione perché noi abbiamo intervistato delle persone che sono stati magari hanno lavorato all'interno di film importanti ma avevano dei ruoli totalmente minori perciò il loro racconto magari un racconto che anche pieno di fantasie e va benissimo così lei pensa che da queste parti sia un grande disonore perdere la verginità prima del matrimonio ma se una ragazza non arriva vergine al matrimonio può sposarsi perché questa differenza tra gli uomini e le donne e quando la carica sessuale del matrimonio è finita cosa si dovrebbe fare lei pensa che la famiglia sia il nucleo su cui si basa la nostra società il rapporto che noi abbiamo avuto con la comunità tamille per cui anche il lavoro che poi ne è nato è un lavoro che in realtà ci aveva messo un anno e mezzo per produrlo perché a differenza di dell'aspetto prettamente performativo come dicevo prima di quasi tutto il progetto video mobile e poi welcome palermo e con la comunità tamille abbiamo voluto proprio creare una riflessione su una clamorosa finzione il lavoro come gran parte di welcome palermo è anche un lavoro a se stante che si chiama blind mirrors e che abbiamo presentato al lica personale a milano poco tempo fa poiché nei passi assolutamente visionari del romanzo del gattopardo alcuni momenti riflettevano sul fatto che l'epoca delle tigri e dei gattopardi dei leoni dei gattopardi stava per finire e a quell'epoca succederà poi le iene e gli sciacalli e questa per noi è una riflessione che non ha nessun valore né populista né estremista da entrambi le parti ma è una riflessione sul fatto del accogliere accogliere il nuovo accogliere una cultura che non ti appartiene che è una casta perché i tamil fanno parte di cast e sono caste come in india per cui rappresentano una rigidità come poteva essere l'aristocrazia e perché rappresenta una comunità assolutamente integrata nella città per cui il decideri aver fatto performare in una loro danza che è una danza sacra e comunque di corte che il bodhisattva far ballare questo corpo di ragazze nel luogo deputato al grande scena del ballo del gattopardo dove si definivano gli albori dell'aristocrazia è una sorta di continuum concettuale del nuovo che arriva questo nuovo che entra nel nostro tessuto e che abbiamo la necessità l'obbligo e il piacere di accoglierlo ma anche conoscendone però quali sono i loro tessuti storici e culturali faccio la risposta vasco rossi mi fa quella più intellettuale allora è noi capito l'autologia dell'archivio nella sua ontologia semantica ovviamente ci comporta di creare delle forme sincopate di arte che